Struscio della scopa nuova, così si chiama a Crotone quando arriva una persona nuova e cerca di fare le cose, vuole fare le cose, vuole fare vedere. Lo struscio della scopa nuova l'ha fatto lo sceriffo. Lo sceriffo è il nuovo comandante dei vigili urbani, perché i primi giorni della sua attività si facevano molte, si controllava il territorio. Adesso siamo alle 11.10, di vicino al comune perché siamo sul corso principale, guardate quante macchine in doppia fila e c'è un poveraccio che è stato chiuso, che sta suonando il clacson per dire che non ce la fa più ad essere stato bloccato. Lo struscio della scopa nuova. Dove sono i vigili urbani? Che fine hanno fatto?